Carling dopato. Quando ho letto questa notizia insomma mi sono rizzati i capelli che non ho ma quantomeno sono caduto dalla sedia. Il carling è quello sport stranissimo dove si corre sul ghiaccio con degli scopettoni. Se anche uno sport del genere è soggetto al trucco al doping per cui la possibilità di truccare le carte in tavola ecco va bene allora è davvero tutto finito. Parliamo delle olimpiadi chiaramente parliamo delle olimpiadi invernale. Noi di Infodata abbiamo provato a misurare il medagliere degli atleti quindi una misurazione quantitativa ma abbiamo anche provato a guardare l'altra faccia del doping per cui l'altra faccia delle olimpiadi e quindi il doping. Lì trovate tutti i numeri e vi rendete conto come gli atleti che si drogano tra virgolette o che vengono drogate a loro insaputa non lo sappiamo la questione non è mai semplice sono diventati un fenomeno pauroso negli ultimi anni nelle ultime grandi manifestazioni sportive. Allora diciamo subito che da sempre si cerca un po' di truccare le carte in tavola. Ultimamente negli ultimi dieci anni questo fenomeno ha cambiato tanto e sta cambiando anche il modo di percepire lo sport e questo è un tema reale, un tema su cui forse vale la pena riflettere. Ci fidiamo ancora di questi grandi eventi sportivi? Ci fidiamo ancora degli atleti?